Il giorno dopo l'approvazione del piano di riequilibrio a Modica sembrano essere tutti felici e contenti. Per i consiglieri di maggioranza l'approvazione dello strumento finanziario rappresenta un importante passo avanti e adesso scrivono la parola passo alla Corte dei Conti, nella speranza che approvi la rimodulazione del piano di riequilibrio e finalmente la città possederà un sospiro di sollievo. Altro dato da evidenziare, sempre secondo la maggioranza consigliare, è il fatto che nessuna delle tre deliberazioni della Corte dei Conti si parli di distesto dell'ente e che fino ad oggi le notizie diffuse in darsenso sono state forvianti con il solo scopo di creare allarmismo. Il fatto che la Corte dei Conti abbia ordinato l'invio delle carte alla Procura della Repubblica e che questo comporta la possibilità che possa profilarsi un dolo di natura penale è un dato di fatto. Che le due prese di posizione della Corte sulla gestione finanziaria dell'ente possano lasciare preso agire ad una procedura di distesto guidato è una possibilità, più o meno remota, ma comunque una possibilità che nessuno si augura. Ciò che invece va fatto rilevare è quanto relazionato ieri in consiglio del Revisore dei Conti che, pur dando parere favorevole al piano, non hanno mancato di bacchettare ed agg duramente l'amministrazione comunale. I Revisori dei Conti hanno parlato a più riprese di responsabilità politiche per quello che sta avvenendo ed hanno anche ribadito che i ritardi venenziati dalla Corte dei Conti attraverso la delibera 100 del 2017 sono ritardi scaturiti dagli uffici. Le carte, secondo quanto ha affermato dei Revisori, non sono arrivate nei tempi e queste cose da parte dei Revisori sono state evidenziate sia alla Corte dei Conti che alla Procura. A Modica comunque c'è un problema relativo all'organizzazione degli uffici. Che non ci sia un ragioniere generale è un altro dato di fatto, come è un dato di fatto che il Segretario Generale abbia assunto la responsabilità del settore finanze. Un'anomalia per un settore che richiede sicuramente grande attenzione.